Era ricercato da sei anni. Un falsario tunisino è stato fermato ed arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiere Marittima al porto di Salerno. Per l'uomo, un cittadino di nazionalità tunisina, OAR e le iniziali, di 54 anni, sbarcato ieri mattina dalla motonave Cruis Bonaria proveniente da Tunisi, la Polizia ha eseguito un mandato d'arresto europeo emesso nell'anno 2016 per reati di natura economica e finanziaria. Durante le operazioni di sbarco della motonave, gli operatori di Polizia hanno notato un cittadino tunisino che con fare sospetto cercava di eludere i controlli di frontiera, nascondendosi tra i passeggeri sbarcanti, attendendo la fine dei controlli con la convinzione di passare inosservato. Gli operatori di Polizia hanno invece avuto modo di riconoscere il cittadino tunisino tramite foto segnaletiche diramate in precedenza come persona da ricercare poiché a carico dell'uomo pendeva un mandato di cattura europeo, il tutto confermato dagli accertamenti espletati tramite le banche dati di Polizia, dalle quali emergeva che l'uomo era gravato da un mandato d'arresto europeo con segnalazione all'Interpol per reati di natura economica e finanziaria, per falsificazione spendita di monete e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate emesso nel 2016 dalla Francia. Il 54enne tunisino condotto presso gli uffici di Polizia per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici nel corso di una perquisizione personale è stato anche trovato in possesso di un'ingente somma di denaro. Il tunisino con regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Caserta il 24 febbraio 2012 ha dichiarato agli operatori di Polizia di essere venuto in Italia per rottamare la propria vettura e di essere residente nel comune di Mondragone in provincia di Caserta dove svolge l'attività di venditore ambulante ma non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile al possesso dell'ingente quantità di denaro. Gli agenti di Polizia dopo aver espletato le formalità di rito lo hanno arrestato trasferendolo presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria.